Cristian Galano, sicuramente senza nulla togliere agli altri giocatori arrivati a Pescara, l'uomo più atteso, colui che nel cuore dei tifosi di Pescara dovrà far dimenticare Leonardo Mancuso? No, non devo far dimenticare nessuno, anche perché Mancuso è stato un attaccante, io sono un esterno e sono felicissimo di essere qui a Pescara e non vedo subito l'ora di iniziare a giocare e magari di regalare delle gioie a questi tifosi. L'arrivo da Foggia a Pescara, sei ridice da una stagione travagliata e direi poco, come ti proponi invece in questo nuovo campionato? Travagliata ma non per colpa mia ma per tanti problemi che ci sono stati, ho giocato pochissimo l'anno scorso, mi ha fatto molto male, ripeto, però ora il passato è alle spalle e sono concentrato su questa stagione, non vedo subito l'ora di iniziare a giocare e di dimostrare il mio valore. Arrivi dal Foggia ma sei anche un foggiano doc, diciamo che i tuoi ex tifosi e i tuoi concittadini non l'hanno presa benissimo, questo tuo trasferimento in Riva all'Adriatico? A me sinceramente poco interessa, io devo fare il mio lavoro e devo fare al massimo, ora ho avuto questa opportunità e non potevo lasciarla scappare, sono contento, ripeto, di essere qui in questa grandissima società e spero di fare bene. Arrivi in una piazza tra l'altro simile per calore, quella rossonera, pubblico molto caloroso ma che pretende anche tanto dalla squadra quello biancazzurro? Sì sì sì, sono due piazze importanti, anzi io vengo da Bari, vengo da Foggia quindi sono piazze che è comunque molto 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 calde, Pescara è anche una di queste, sono abituato e quindi niente, spero di augurarmi il meglio a me e tutta la squadra e di fare bene. Sei stato fortemente voluto dalla società trattativa che è stata anche piuttosto breve, come è maturata questa trattativa all'inizio proprio del mercato? Ma guarda, ero, come dicevo prima, ero in vacanza e sapevo che comunque il Pescara mi stava dietro, anche se sono da anni che mi sta dietro però specialmente quest'anno mi ha apprezzato un po' e niente, io non mi sono fatto prendere due volte e ho accettato questa proposta. Hai trovato qui a Pescara tanti ex avversari e conosci qualcuno in particolare? La maggior parte comunque ci ho giocato sempre contro, in particolare Vincenzo lo conosco, Fiorillo e tanti altri, niente, mi fa piacere stare con loro e speriamo di fare un grandissimo cambiamento tutti insieme. C'è un tecnico giovane a Pescara, Luciano Zauri, primissima esperienza su una panchina di una squadra professionista, le tue impressioni? Il mister è da poco che lo conosco, la natura è giovane, che si vede comunque molto intelligente, è preparato, dobbiamo soltanto stargli dietro, seguirlo e sono sicuro che potremmo tollerci delle soddisfazioni insieme a lui.